Buongiorno, il lavoro che andremo a effettuare oggi consiste nel modificare l'obiettivo della GoPro. Le GoPro hanno un'ottica fisheye, noi toglieremo l'obiettivo che la casa costruttrice ha inserito dentro e lo sostituiremo con un obiettivo normale con angolo di ripresa di 60 gradi. Andiamo a fare la modifica. Lavoro effettuato con successo, l'obiettivo originale è stato tolto, tutto ok, adesso andiamo con l'aular. Grazie. Grazie. Grazie per avermi seguito e arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Grazie.